Grazie a tutti. Buongiorno, è un onore Presidente, buongiorno, è un piacere di vederla a tutti, è un onore e un piacere riceverla qui in azienda. Buongiorno, è un onore e un piacere di vederla a tutti. Buongiorno, è un onore e un piacere di vederla a tutti. Buongiorno, è un onore e un piacere di vederla a tutti. Buongiorno, è un onore e un piacere di vederla a tutti. Buongiorno, è un piacere di vederla a tutti. Buongiorno, è un piacere di vederla a tutti. Buongiorno, è un onore. Buongiorno, è un piacere di vederla a tutti.